come si fa? no 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 non così devi schiacciare davanti schiaccia davanti quel cosino lì schiaccia ok adesso fai leva col piede ok ciao talons in versione sci munito sono bellissimo attenzione no prima di aprire la pelle apri tira tira mettici un po di potenza siamo quasi pronti almeno io sono pronto loro un po meno per la nostra prima gita di sci alpinismo questo è un sequel si dice sequel o sequel beh ragazzi in poche parole questo è sci alpinisti improvvisati volume 2 dov'è che andiamo oggi Gio? non so esattamente il 9 ma lassù l'obiettivo della giornata è arrivare in punta al Rocher Charnier quota? 5.000 3.000 eh? 3.000 e 67 metri c'ero quasi dai quasi l'importante è avere stile allora ci siamo appena fermati a fare una piccola pausa è circa un'ora e cinquanta che camminiamo quanti metri abbiamo fatto fino adesso? 421 metri di slivello e come vedete ovviamente abbiamo i primi segni di difficoltà no i primi erano più o meno i primi erano più o meno all'inizio erano già al parcheggio i primi segni di crisi vero? sì dai ragazzi che il meno è fatto super siete contenti? sì stanchi stanchi però madonna guarda dove c***o sei sei in orbita adesso te la ridi eh? comunque io non so come ti abbia fatto a salire fino qui senza chiedere da sole io non vedo niente a me dando fastidio di chiedere da sole adesso mi metto pure io il paravento dai Simo vestiti qui non prende puoi fare un video puoi caricarlo dopo è la storia tu non fai mai così? io sì io faccio sempre così mi tolgo gli occhiali per la foto no ma stai benissimo con gli occhiali lì adesso c'è la discesa con il morale eccoci qua dopo quasi tre ore Team Frisky Sauce in punta alla Rocher Charnier Charnier Team Frisky Sauce in un gloria Team Frisky Sauce in un carico Team Frisky Sauce in un parco Grazie a tutti